65 e 66 in merito alla scuola vera istituzionale il sogno ha già trovato visto quanto ha avuto il giorno la nuova delibera sulla Junta, la posta delibera 125 anche se il nuova è una nuova grafica, ci sono due delle parole di differenza a scuola quando si compiace come su questo problema abbiamo sollevato una questione presidenziale volevamo sapere quando dovrà essere affrontata e discussa questa questione presidenziale e comunque abbiamo inviato la segreteria e quindi prima l'inizio della discussione altro che abbiamo attualmente il suo antico vera non è pensato a stabilisci che il senso del Consiglio della Sondaria sono pubblica ora non pensato che la presidenziale sono da riconoscere che la presidenza c'era città un'altra generale del Consiglio non ci ha avuto la messa di strada a accorciato la presidenziale noi abbiamo sempre riconosciuto ma non comprendiamo un risposto per il minuto con cui non si consente che sempre se lo comprimano un po' di medicare visto che la presidenziale la stabilisce così che solo salvo che il Consiglio la maggioranza possa essere tutto questo sviluppato questa classica quindi voglio consigliere comportare la passata dei casi con un'analista che deve essere siglata dal viso della presidenza per diventare una volta di perivere con il grado di una cosa che non comprendiamo e che soprattutto è riscordare la vita quindi chiediamo se è potente la mia per la vita la sua potenza che la parte di un risposto e di risposto con tutte le case con il perito questo è quando deve essere esaminata la sua gestione del Poliziale correttamente di il per quanto alla nuova sono più direi che la vostra è libera su 125 strade grazie